Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1 per lavori chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Aglio e Pian del Voglio. In direzione Bologna chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla FIPILI tra Montelupo ed Empoli Est chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!